gentili telespettatori buona giornata berluscao meravigliao l'incredibile cavaliere oggi è loda non è loda loda giorgia meloni è stata fra i migliori ministri del mio governo perché fa così perché lo fai eh come era quella canzone perché lo fai disperata ragazza mia perché lo fai silvio se diventi patetico silvio senti hai già lodato i 5 stelle ne hai dette contro di loro per anni facendo capire che erano veramente inguardabili inqualificabili inascoltabili insomma il peggio del peggio e adesso dici no ma loro sono da rispettare sono da prendere in considerazione hanno incarnato il disagio sociale il reddito di cittadinanza va benissimo ha sconfitto diminuito la povertà e quindi rispetto per i 5 stelle lo dice per i voti del quirinale lo dice perché tanti poltronari grillini futuri disoccupati che lui ha fatto contattare o a contattare magari gli hanno fatto qualche mezza promessa ecco no futuri disoccupati che promettono uno degli uomini più ricchi d'italia e con decine di migliaia di dipendenti gli promettono di dare il loro voto per eleggerlo capisce a me è chiaro stufatto e così berlusconi dice beh ai grillini gli ho allisciato il pelo adesso la giorgia meloni che in queste ultime settimane mi ha dato delle rispostine che ci sono rimasto un po male magari allisciamo anche anche giorgia meloni e facciamogli quattro moine quattro complimenti così mi assicura il voto perché mi aveva già detto di sì adesso dice berlusconi non hai voti basta fare i conti e berlusconi ci è rimasto male settimana scorsa quando la meloni però caro silvio povero silvio e l'ha fatto per noi povero silvio senti silvio e allora ti hanno definito grande statista grande di qui grande di là certo grande imprenditore presidente del milan presidente di tutto no presidente anche del ecco ecco è presidente d'italia fra un po chi lo sa però un po mi hai lasciato un po perplesso caro silvio come puoi puntare al quirinale avere bisogno di voti salvi di salvini e meloni e poi andare in giro a dire a fare le interviste e ti chiedono ma allora cosa ne pensa di salvini o meloni premier futuri ma non scherziamo ma come fai di una roba del genere silvio ma ma cosa ti è successo cribio ma che fate ma come puoi andare in giro a dire questo e poi dopo qualche giorno ribadirlo ribadirlo ma no io sono ho il doppio dei loro anni io sono il professore loro gli allievi poi non sono capaci a fare i capi del centrodestra magari adesso ci penso bene tra le persone che conosco magari troviamo uno che fa il capo del centrodestra ma come fai a dire delle robe del genere già è tanto che non t'hanno mandato a quel paese tutti e due in coro io se fossi sempre bisogna la politica è compromesso no ti viene da rispondere poi dice no no fermo 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 se lo mandi a quel paese poi un governo di centrodestra non ci sarà mai quello che avranno pensato salvini e meloni hanno detto quasi quasi gli rispondo lo mando veramente a quel paese gliene dico quattro faccio una conferenza stampa gliene dico di tutti i colori così poi il centrodestra ha chiuso e facciamo governare giuseppe conte eletta e allora si mordono la lingua però sia meloni che che salvini io credo che non lo sopportano più non lo sopportano più io credo che proprio così hanno due possibilità o levarselo dalle scatole mandandolo al quirinali così ce lo togliamo dalle scatole ma voi credete veramente che berlusconi al quirinale sta zitto lì e passeggia per le stanze a guardare gli stucchi rinascimentali non credo quello tutti i giorni mattina e pomeriggio sera dirà qualcosa andrà a trovare putin andrà a trovare girerà farà ne dirà speriamo non ci faccia fare qualche figuraccia tipo le corna che faceva o sulla merkel quella vi ricordate cosa diceva della merkel insomma speriamo che non se dovesse diventare capo dello stato non ci faccia fare qualche bella figura come diceva il suo uomo al telegiornale come cacchio si chiamava come si chiama emilio fede che figura di ecco speriamo che non ci faccia fare qualche figura da cioccolatai però meloni e salvini sono si stanno trattenendo ma silvio dice autorevole guida di una delle maggiori famiglie politiche dell'unione europea sta dicendo che giorgia meloni è un autorevole guida di una delle maggiori famiglie politiche dell'unione europea giorgia meloni dice in passato è stata da giovanissima uno dei migliori ministri del nostro governo e oggi guida con autorevolezza una delle migliori famiglie politiche europee e proprio questo comune senso di responsabilità verso il paese questa scelta mi viene da ridere ma professore ma che cacchio te ridi mi fa un po mi fa un po sorridere il berlusconi in versione qui in alizia berlusconi dice proprio questo comune senso di responsabilità di giorgia meloni verso il paese questa scelta di anteporre a tutto l'interesse nazionale una delle regioni che ci uniscono dice il cavaliere che fanno del centro destra una grande coalizione plurale ma coesa mancava solo che finiva con viva meloni viva frate non l'ha detto però fra un po vedrete che fra qualche giorno dirà anche queste cose qui e poi dice a voi di fratelli d'italia a voi in particolare tutti riconoscono di condurre un'opposizione seria responsabile nell'interesse della nozione un'opposizione all'altezza della gravità drammatica dei mesi che abbiamo attraversato e che forse dovremmo ancora attraversare un'opposizione la vostra che condivide la responsabilità istituzionale verso il paese pur non rinunciando al legittimo sogno di una svolta sono orgoglioso ma che te ridi sono orgoglioso di essere vostro alleato in un centro destra che per tutti noi è una scelta di campo irreversibile per fare capire la meloni guarda che io non voglio fare alleanze con gli altri è una scelta irreversibile e poi dice il centro destra una grande coalizione plurale ma coesa che si candida a guidare il paese dopo le prossime elezioni politiche un centro destra dice fatto di realtà diverse con culture politiche diverse ma unito da un solido progetto per il futuro della nazione del resto sottolinea il cavaliere l'italia ha un grande bisogno di serietà di concretezza di responsabilità di donne di uomini del fare come mi piace definirli che abbiano dimostrato di saper conseguire degli obiettivi e che mettono la loro esperienza dentro e fuori della politica al servizio della collettività un centro destra di governo dice deve essere tutto questo perché la stagione che ci attende molto difficile e poi berlusconi dice che fratelli italia anzi ha ragione bisogna fare il presidenzialismo in italia quindi berlusconi da d'accorda anche a meloni dice che meloni vuole ha parlato proprio in questi giorni di presidenzialismo e lui dice sì 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 c'è ragione la meloni anch'io sono per il presidenzialismo in passato è stata da giovanissima una dei migliori ministri del nostro governo e ora come leader politico e presidente del gruppo dei conservatori e riformisti europei e la guida autorevole di una maggior di una delle maggiori famiglie politiche ecco dice però non voglio ignorare certamente le cose che ci dividono ma esprimo profondo rispetto per le scelte dell'alleata riconoscendole il merito di fare opposizione con serietà e responsabilità somma silvio ma va la va la silvio ma fammi il piacere va arrivederci a tutti